Bottiglie e flaconi di plastica sono stati tra i primi rifiuti a poter essere riciclati fin dagli esordi della raccolta differenziata. Da quel momento ci siamo accorti di quanti flaconi, soprattutto dei detersivi, gettiamo nei cassonetti per poi andargli a ricomprare subito dopo. Un'alternativa è riutilizzare i vuoti e ricomprare solo il liquido che ci serve. In realtà tutti i prodotti per la casa che affollano i nostri ripostigli sono acquistabili in questo modo, con un grande risparmio di plastica per i contenitori e cartone per le confezioni, ovviamente. Ma ci conviene anche economicamente, lo chiediamo a Cristina Albini, titolare di Jacobolle, un'azienda di caserta che spedisce in tutta Italia serbatoi grandi e piccoli di questi prodotti. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto, quali tipi di prodotti per la casa si possono comprare? Sfusi? Tutti, tutti, tutti. Noi abbiamo dalle lavatrici, le morbidenti, gli sgrassatori, i piatti, tutto ciò che può servire per la pulizia della casa. Noi ce l'abbiamo, diciamo, siamo veramente molto forniti. Come avviene l'acquisto? Il cliente deve portarsi i flaconi vuoti? Come funziona? Sì, sì. Allora, se loro hanno già flaconi anche di detersivi che già utilizzavano a casa, vanno benissimo. Possono tranquillamente riutilizzarli perché poi fondamentalmente, diciamo, che la finalità di questi negozi è proprio quello del riciclo dei flaconi di plastica. Oppure, generalmente, i negozi hanno anche loro, diciamo, dei flaconi, insomma, da un litro, due litri, tre litri, che vendono la prima volta al cliente quando viene a comprare. E poi, chiaramente, cercano di farli capire che dovrebbero possibilmente tornare poi sempre con gli stessi flaconi, proprio per il motivo di cui dicevamo. Certo. I saponi, i prodotti, sono di buona qualità? Sono come quelli confezionati, diciamo, normalmente, fra virgolette, quelli che tutti conosciamo? Oppure sono prodotti artigianali? Sono prodotti alternativi? No, no, assolutamente. I prodotti sono di alta qualità. Ovviamente, noi parliamo per quelli che produciamo noi, insomma, perché chiaramente noi li testiamo, li analizziamo, li facciamo analizzare sia da laboratori esterni che da chimici interni. Noi possiamo tranquillamente paragonarci, insomma, a quelle delle migliori marche che sono sul mercato, perché sappiamo che questo tipo di negozi, per questo tipo di negozi è fondamentale vendere un prodotto di buona qualità, perché chiaramente già non è un prodotto pubblicizzato. Certo. Se poi la persona che viene a provare non lo trova buono, non lo trova ed olio, chiaramente non torna più. Quindi noi sulla qualità dei prodotti ci lavoriamo moltissimo, insomma, per noi è fondamentale. A parte la convenienza per l'ambiente, abbiamo visto, insomma, è sotto gli occhi di tutti, no? Comprare prodotti sfusi conviene anche economicamente? Certo, certo. Calcolate che rispetto ai detersivi confezionati, ovviamente, ripeto, parliamo sempre, ci paragoniamo sempre alle migliori marche sul mercato, c'è mediamente un 30-35% di risparmio. Beh, sono parecchi. Quindi non è poco, non è poco per una famiglia, non è poco. E in che genere, in che tipo di negozi si trovano le vostre tanniche da cui poi si spillano i prodotti? Sono piccoli alimentari, sono supermercati? Sì, diciamo che noi, la maggior parte dei nostri negozi sono negozi dedicati, nel senso che sono proprio negozi che vendono fondamentalmente solo questo, diciamo, detersivi e la spina. Però poi abbiamo anche molti corner, addirittura in ferramenta, insomma, nei negozi più diversi, insomma, addirittura in uno studio fotografico una nostra cliente aveva una sala dove non sapeva cosa metterci, ha detto, un'ottima idea, questo è il versivo della spina e quindi lo sfrutto così. Sì, quindi qualche corner in alimentari sicuramente, diciamo che la maggior parte sono negozi dedicati, dove vendono fondamentalmente, principalmente, solo questo. Però, ripeto, abbiamo anche tanti altri corner in negozi molto, molto diversi. Anche all'estero voi vendete, vero? Sì, 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 siamo presenti, abbiamo un deposito in Romania, abbiamo un paio di negozi a Tirana, a Pleven, in Bulgaria, sì, abbiamo anche qualcosa fuori. Va bene, allora viva le ecobolle, grazie a Cristina Albini. Sì, grazie a voi, grazie a tutti, salve, salve. E se avete una storia da segnalare o un argomento che vorreste fosse affrontato da VIP, potete scrivere a VIP, chiocciola, earthdayitalia.org, VIP torna lunedì.